Stupire, incuriosire e coinvolgere il pubblico attraverso le opere artistiche. E questo l'obiettivo della mostra I Bianchi per Caso raccontano, fino a 10 novembre all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio. Gli autori hanno donato all'Assemblea un'opera che prende spunto dalle caratteristiche architettoniche della città di Torino. Noi siamo i Bianchi per Caso, stiamo appunto proponendo questa mostra per proporre il nostro tipo di lavoro come Bianchi per Caso, però nello stesso tempo proponiamo anche i nostri lavori. Io come scultore, Maria Grazia Fiore come pittrice astratta ed Eugenio Cozza come pittore figurativo. Da anni operiamo, appunto facciamo questo tipo di lavoro che è fatto a Franco Bollo dove noi riportiamo tratti di paesaggio, punti caratteristici della città.